Musica Ciao a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video oggi abbiamo un nuovo prodotto da farvi vedere questo prodotto è pensato proprio andare per strada per la vostra sicurezza cosa significa? allora questo come vedete è uno zaino antifurto in cui le persone quando state dentro a una metro o un treno sicuramente è molto utile avere questo tipo di zaino che è molto più sicuro rispetto agli zaini che si aprono molto ma molto più facilmente ora andiamo a scoprire nel video cosa c'è all'interno di questo zaino perché è comodo, perché comprarlo e perché utilizzare questo tipo di zaino ecco ragazzi questo è lo zaino molto bello abbiamo anche l'icona anche come l'icona di un telefono il ladro prova a rubarvi lo zaino basta andare a fare così non riesce a trovare nulla abbiamo anche delle tasche laterali è molto più facilmente ma potete anche ingannare ma non mettere nulla qua e tenere tutto a sicuro nella tasca più sicura comunque che qua è molto abbastanza sicuro perché si sente se state in zone aperte si sente questo tipo di apertura quando un ladro lo può rubarvi abbiamo anche la tasca di sotto dove potete mettere altre cose personali come un power bank una penna per studiare anche questo è uno zaino sia per il lavoro sia per utilizzarlo in giro andiamo ad aprire lo zaino si apre da qui sotto come vedete è molto comodo si possono mettere un po' di cose all'interno ecco lo zaino che si apre in questo modo all'interno io metto i miei libri per l'università perché studio anche per l'università e anche per altre cose personali mie qui abbiamo anche la tasca per aprire in caso un ladro può entrare direttamente qua dentro molto difficile perché sta anche questa protezione che vi permette anche di mettere cose personali anche computer se avete un computer portatile lo potete tranquillamente utilizzare o mettere le vostre cose personali qui potete mettere all'interno qualsiasi cosa libri foto infatti avete anche la possibilità di aprire un'altra scenniera possibilità non so se è riuscito a vederla eccola di mettere altra roba al chiudere in questo modo che è ancora più sicuro abbiamo anche dei cavetti per caricare direttamente un telefono qualsiasi cosa veramente molto utile molto bello poi faccio vedere che le tasche sono qua invece che di qua sopra perché un ladro se prova a rubarvi qui difficilmente riesce ad aprirlo poi i materiali sono molto buoni se qualcuno prova a tagliare con il cortello sicuramente è molto ma molto difficile grazie ai materiali a fare danni a questo tipo di zaino in conclusione ragazzi vi consiglio anche dal punto di vista del design è molto carino molto comodo di acquistarlo in cui avete anche la possibilità di mettere le vostre cose personali aprirlo in questo modo abbiamo anche le tasche come ho detto per mettere altra roba dentro in caso il ladro prova a rubarvi deve fare così in questo modo ma è molto ma molto difficile sicuramente lo consiglio anche per andare in metro per andare diciamo in città per utilizzare l'università per il lavoro per qualsiasi cosa resistente all'acqua se piove sicuramente resiste alle gocce d'acqua si asciuga molto velocemente e non crea danni all'interno lo zaino trovate su amazon vi rimango anche il link in descrizione a un prezzo di 38 euro e 99 centesimi sarebbe sui circa 39 euro 40 euro potete anche trovare qualche offerta su amazon a un buon prezzo utilizzate carna pagandolo come ho fatto io in tre rate invece di pagare per esempio mi manco anche il video descrizione per vedere carna come utilizzare una carta usaggetta da creare e mettere su amazon in cui potete utilizzare direttamente con il vostro conto creare questa carta e in 24 ore viene accettata e vi arriverà a casa direttamente il vostro prodotto poi ci sta l'applicazione in cui potete gestire tutto quanto e l'ultima cosa questo è il capetto per caricare direttamente lo zaino secondo me molto bello da aprirsi e chiudersi e portare in giro e può mettere tantissime cose senza sentire il peso dei libri all'interno anche per studenti universitari con questo è tutto un saluto da Tecnologigi ci vediamo in un prossimo video ciao ragazzi un saluto un saluto Grazie a tutti